Ben ritrovati con gli spazi di approfondimento su TRMH24. Lo dedichiamo alla settima arte, soprattutto alle origini di quest'arte meravigliosa. Lo facciamo con un focus sulla Basilicata perché a Trivigno, un piccolo ma virtuoso centro che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi, sta prendendo sempre più vita un'operazione di riscoperta di un cittadino illustre. Si tratta di Robert Vignola, uno dei capostipiti, possiamo dire, del cinema mutuo a livello mondiale. Ed è realmente così. Ebbene, l'amministrazione comunale di concerto con una serie di soggetti di partner ha inteso promuovere sempre di più la storia di Robert Vignola e soprattutto nel rilanciare quello che è l'origine del cinema. Lo si farà ancora una volta nel mese di agosto con un'anteprima di caratura mondiale. Ne parliamo con il primo cittadino, il sindaco che salutiamo, di Trivigno, in provincia di Potenza. Si tratta di Michele Marino, ben trovato. Grazie. Dunque, l'abbiamo detto, Robert Vignola, un cittadino illustre, un'operazione di riscoperta, in tanti non sapevano neanche chi fosse, poi accostato alla Basilicata. È sicuramente un valore aggiunto. L'11 di agosto si terra a Trivigno una proiezione orchestrata dal vivo di un'opera restaurata molto importante. L'appuntamento è per sabato 11 alle ore 21 in piazza, è gratuito, diciamo perché è gratuito. Questa è l'ennesima tappa di un percorso di recupero e la valorizzazione di un nostro concittadino, Robert Vignola, che ha fatto grande il cinema muto americano e quindi a livello mondiale. Praticamente è stato un innovatore del cinema muto. Quindi il comune di Trivigno si è impegnato da tempo a valorizzare questa figura con altri partner come la Regione Friuli, le giornate del cinema muto di Pordenone e altri soggetti, Film Commission, F9 e altri soggetti. La Basilicata parla già di cinema. Si è incastonato Trivigno come elemento aggiunto, se vogliamo, e lo fa con questo personaggio che come anticipato era un divo a tutti gli effetti di Hollywood e aveva origini proprio trivinesi. Sì, è un divo. È partito molto piccolo da Trivigno, però si è inserito molto bene in America, tant'è che ha fatto da subito, da giovane, era attore di teatro, poi attore di cinema e poi regista. Quindi riconosciuto in tutto il mondo. La proiezione di questo film, che è del 1922, Beauty World, sarà proiettato, quindi appunto a Trivigno, l'11 di agosto, alle ore 21, è l'attrice Marlon Davis, una delle famosissime attrici. Quello che c'è di particolare è che questa pellicola è venuta proprio per l'occasione dall'America e la partitura musicale è assolutamente originale, è stata composta positivamente per questo evento dal professor... Sì, abbiamo proprio quest'orchestra che andrà a musicarla diretta da un maestro americano, da Stephen North. Stephen North. Ha citato peraltro quella che era un'altra diva assoluta, la Davis, che già in quegli anni, siamo nel 1922, dunque negli anni 20, avevano con le loro movenze, con la mimica, nella gestualità, già un'importanza straordinaria. E' proprio questo il valore aggiunto, quello di lavorare molto sulla fotografia da parte appunto di Robert Vignole, tutto questo si evince, poi accompagnato dal vivo, rientra se vogliamo in quegli appuntamenti del turismo anche esperienziale, se vogliamo, perché sicuramente lo spettatore sarà coinvolto in maniera diretta. Sarà coinvolto certamente in maniera diretta e sarà anche una novità, penso, per la Basilicata, per questo colonna sonora suonato praticamente dal vivo. E' una cosa importante che il film e la partitura, quindi l'orchestra, daranno inizio alle giornate del cinema mutuo di Pordenone. Il giorno 5 in una piccola, un teatro vicino Pordenone. Ecco, è un gemellaggio. È un gemellaggio. Già strutturato, quello con Pordenone, è l'evento più importante sul tema a livello italiano, se non anche di carattere europeo. Internazionale. E Trivigno, dunque, si aggiunge proprio con questo filo conduttore con la Basilicata. Abbiamo citato, lo ricordiamo, anche le collaborazioni con il comune di Trivigno, l'abbiamo detto alla società lucana di produzioni cinematografiche F9, del quale possiamo anche osservare queste splendide immagini e poi anche la pellicola che è restaurata sarà offerta al pubblico. Poi la Lucana Film Commission, importante, Cinema Zero, la Cineteca del Friuli e appunto le giornate del cinema mutuo di Pordenone. E Zero Orchestra. E anche Zero Orchestra con questo contributo. È importante, se vogliamo, anche differenziare quelli che sono i capitoli, le tappe per recuperare Robert Vignola. Lo si è fatto fisicamente, con dei luoghi che possono ricondurre proprio le sue origini. Lo si fa con queste opere. È anche un segnale, se vogliamo, all'intera comunità. Certo. Allora, noi abbiamo individuato praticamente il luogo dove Robert Vignola ha vissuto da giovane, da piccolo. L'abbiamo acquisita al comune, questa struttura, e a breve costruiremo un museo del cinema mutuo proprio in onore di Robert Vignola. Volevo dire anche che questo evento è stato patrocinato dalla Fondazione Basilicata Matera 2019 e sostegno anche economico della Regione Friuli e Fondazione Friuli. E dunque altre collaborazioni importanti. Si va verso il 2019, non poteva mancare la presenza di Trivigno con quanto si sta facendo. Peraltro, anche elementi importanti della centralità di Robert Vignola si evincono, per esempio, dal premio Oscar alla carriera e autore del più importante film su Charlie Chaplin, Kevin Brownlow, che ha citato più volte quella che era la maestria di Robert Vignola, che ha portato, se vogliamo, l'estro creativo italiano poi nel mondo. È un chiaro esempio, se vogliamo, di Cittadino del Sud, che poi si è fatto conoscere, se vogliamo, più umanamente e poi successivamente dal punto di vista professionale. Sì, certamente dal punto di vista professionale, ma ha fatto rilevare umanamente, perché lui ha dato spazio a tantissimi emigrati italiani. Quindi ha dato, ha fatto collaborare, tant'è che mi risulta che un film è stato musicato dal padre di Franzi Scoppola. Quindi lui praticamente amava l'Italia e amava soprattutto gli italiani, e quindi cercava di alleviare quello che potevano essere poi le situazioni lavorative e economiche di quell'epoca. Un bel messaggio, anche di collaborazione già allora, che poi abbiamo visto nel tempo, ha dato ottimi segnali, ottimi effetti. Se vogliamo anche un altro valore aggiunto, in questa ricerca, nei confronti non soltanto delle pellicole, ma anche delle macchine del tempo, viene offerto grazie alla Cineteca di Oppido Lucano, anche lì già presente in Basilicata. Dunque questa rete che sempre più si va strutturando è fondamentale nel confezionale, se vogliamo, manifestazioni e prodotti. Certo, tant'è che noi siamo intenzionati a vedere un attimino se questa Cineteca di Oppido può dare al Comune di Trivigno, logicamente con un equo indennizzo, una cinepresa dell'epoca da poter mettere all'interno del Museo di Roberto Vignola. Sarebbe un bel valore aggiunto. Sarebbe anche questo un ottimo messaggio che viene trasferito e poi fisicamente presente. Per far conoscere sempre più Roberto Vignola ai giovanissimi che non solo non hanno mai visto, se vogliamo, delle pellicole di cinema mutuo, ma soprattutto non hanno preso contezza di come sia nato il cinema hollywoodiano che in quegli anni nasceva, cresceva e poi è arrivata alla fama che a tutt'oggi esiste. Vedete, a me sono stato più convinto di andare avanti per un fatto molto semplice, perché a dicembre 2017 abbiamo invitato e portato al Due Torri 500 bambini a far vedere dei film di Chaplin e di Chaplin. Abbiamo chiesto loro se qualcuno conosceva Chaplin, tre bambini su 500. Allora, tieni presente che però per due ore i bambini sono stati là a ridere e a battere le mani. Quindi il cinema mutuo piace, piace anche ai giovani e questa mi ha dato la spinta per poter proseguire. Per cui non è un qualcosa di nicchia, è un qualcosa che bisogna riscoprire e far conoscere alle nuove generazioni. Un tesoro in casa che andava semplicemente riscoperto. Lo si può fare appunto con la capacità dell'innovazione, recuperando proprio il tratto della tradizione verso eventi del genere. Lo abbiamo citato, F9, questa casa di produzione che in maniera certosina ha operato anche nel storytelling, ormai è abusata questa parola nella narrazione del personaggio, ma di quello che poi dovrà divenire nel tempo come chiave di volta per un qualcosa che Trivigno vorrà curare sempre di più. Sì, la nostra intenzione, dobbiamo vedere perché non è semplice, è quella di far diventare Trivigno, quindi cittadella del cinema mutuo in collaborazione con le giornate del cinema mutuo di Pordenone, ma cercare di fare proprio un festival dove i giovani si presentano, devono girare dei cortometraggi di mutuo nel comune di Trivigno e nel circontario. È sicuramente anche questo un bel messaggio. Abbiamo pochissimo tempo. Ricordiamo quello che è appunto l'appuntamento di questo weekend fondamentale per saggiare dal vivo e osservare, in questo caso, il cinema mutuo. Lo ricordiamo sabato 11 agosto, ingresso assolutamente libero, sarà possibile vivere le emozioni del film Beauty's World, pellicola che Robert Vignola, trivignese doc, è salito alla ribalta hollywoodiana, diresse nel 1922 con la nota Marion Davis, una diva dell'epoca che sarà protagonista. La proiezione sarà orchestrata dal vivo, e questo è l'elemento aggiunto, da Zero Orchestra, diretta dal famoso maestro Stephen Horn. Un invito finale, Sindaco, nel dare il benvenuto a Trivigno e nel prendere contezza di questo evento. Certo, invito a venire a Trivigno e a condividere questo evento che è praticamente unico, perché è un'anteprima mondiale. Siamo ben felici di accogliervi. E dunque un'anteprima mondiale che parla a Lucano in questo senso, grazie al Sindaco Michele Marino, Sindaco di Trivigno. Grazie. Grazie. Ed è tutto per questo spazio di approfondimento, linea che va alla regia. Grazie. 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 Grazie.